Musica Hi people of youtube Welcome back to the new episode of Mario Luigi Partners in Time A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'ottenimento di una nuova abilità Ovvero noi, Mario, Luigi e adulti Che possiamo fare la pallina E con questa abilità abbiamo raggiunto un altro portale Oltre ad aver aperto una zona sotterranea del castello Che ci ha portato a ritrovare Un vecchio amico, diciamo Ora, iniziamo a fare un attimo il giro per vedere Se troviamo qualche X per terra, ma ne dubito Proviamo ad aprire qua, ma... Andrà bene? Mamma mia! Prendeteli! Catturate quei merda! All'attacco, 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 all'attacco L'attacco, all'attacco, 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 all'attacco Nasconditi, Luigi! Dove sono andati? Sono andati di là, sicuramente! Allora attacco l'attacco 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 l'att La porta principale è il modo migliore per farsi beccare Vi ricordate di me, vero? Rivedere l'affascinante reporter della gazzetta del Koopa vi ha sconvolto, vero o no? Già, Lily Koopa è sempre sul pezzo Ok Devo andare, ho come la sensazione che questo sarà lo scoop esplosivo Ecco lo scoop, la principessa Sherub arriva qui a momenti Sì, ci sarà un enorme raduno per festeggiare la conquista del regno dei funghi E intanto Luigi E per questo è solo l'inizio, pare che ci sia anche un'altra principessa È rosa, bionda, con una corona I miei informatori dicono che le piace il rosa e che potrebbe davvero essere di sangue blu Cosa è la principessa Peach? L'altra principessa Peach? La principessa Peach è tornata dentro il tempo ed è stata catturata dagli Sherub Ti sto dicendo la verità Ah, fatemi capire Voi sareste qui per cercare di salvare la principessa Peach? Esatto Mi sembra una bufala Però se fosse vero sarebbe un grandissimo scoop Eh Fermati Ok, quindi dovete entrare nella cuba per salvare la principessa, è vero o no? Esatto Beh, secondo le solite indiscrezioni c'è un ingresso segreto da queste parti Le solite indiscrezioni non dicono altro Quindi non so dove si è di preciso Beccati questo Comunque sia, di qui non potete entrare, quindi trovate l'ingresso segreto Volete il gossip? Invece roll, l'ingresso segreto è collegato alle quattro statue del deserto E ora, gambe e spalle, trovate quell'ingresso Anche io ho un paio di piste da seguire In bocca al lupo Luigi Eccomi Ahia Che fatica stare dietro a bambini Mario, ma noi da bambini eravamo davvero così? Eh, probabilmente Forse stiamo ingigantendo ancora di più la cosa Essendo qui nel futuro, nel passato Ti immagini se poi Allora, io la butto lì Proprio a parere Pratico di Possibilità di viaggiare nel tempo Ma se noi Incontrassimo i nostri stessi del passato Iniziassimo a migliorare i nostri stessi del passato Non saremmo In quello stesso momento Sì, cambiando il futuro Pallesemente Ma non staremmo migliorando noi stessi Cioè, non esisterebbe una versione di noi O comunque noi stessi diventere Perché qua entra sempre in gioco Il discorso realista del viaggio nel tempo Perché Uno dice E ci sono varie teorie C'è la teoria che Se viaggi nel tempo Cambi il tempo Crea una nuova linea temporale Cambi il futuro E smetti di esistere il futuro attuale Si crea un altro futuro Cioè, allora Qui Bisognerebbe veramente aprire Tredici parentesi Perché Noi non lo possiamo sapere Wow Allora, quindi DQ Per voi di qua Per di qua è Luigi Per di qua è Mario Ok Uno E due Uno Ah, ok Cioè Bisognerebbe vedere Per come la vedo io Sarebbe il cambiamento automatico Nel senso Tu cambi una cosa del passato Quella cambia automaticamente il futuro Per come Penso io Funzioni noi viaggi nel tempo Io La vedo così Quindi Se Mario attuale Stesse allenando Mario del passato Cioè Mario bimbo Il Mario attuale dovrebbe avere Ah cavolo Ecco come faceva a fare L'attacco Il Mario attuale dovrebbe avere Statistiche migliorate In base anche A ciò che aumenta Mario bimbo La proprio butto lì Sul Sul pratico Quindi Se io Aumento i baffi Di Mario bimbo Dovrei avere Volevo saltare Non l'ho fatto in tempo Dovrei avere Comunque una percentuale Di Mario Adulto Migliorata Su quella statistica Io la vedo Cioè proprio nel senso pratico Del termine Perché poi Ovvio che Non lo fanno Perché se no Tu aumenti 200 L'attacco di Mario bimbo E hai Mario adulto 3000 D'attacco Non Non l'ho fatto in tempo Neanche qui Non funzionerebbe Sarebbe un dettaglio carino Cioè nel senso Tu aumenti Determinate statistiche Nel passato E automaticamente Nel futuro Ce le hai migliorate Ok Devo ricordarmi Quale Azione Di questi Fa quale cosa Io intanto Ecco Giusto per ucciderne uno Va da Mario Preso Speravo di ucciderlo Ci ho sperato Però L'importante è che Questo giro Non abbiamo preso Neanche un danno Secondo voi Invece come funzionano I viaggi nel tempo Io Allora Secondo la mia teoria Cioè nel senso Per come Li vedo io Sarebbe un cambiamento Automatico Per esempio Non così drastico Nel senso Muove 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 un fiore Quando ci sono i dinosauri Allora cambia Tutta la storia La vedo molto Drastica E penso che Un cambiamento Minimo Influisca Relativamente Su La storia Cioè non penso Che sia Tu che Che tocchi un fiore Allora basta Hai cambiato Tutto Non riesco a capire Ah forse Nel senso Di come gira La testa Se la gira Da una parte Va verso uno Se la gira Dall'altra Ok Forse Dobbiamo Madonna mia A vedere Quell'immagine Di quel deserto Sto già morendo Mi sono distratto Guardando il deserto Perché non va Il martello Del cacchio Ho schiacciato Due volte Il martello Non me l'ha fatto Io penso Che il tempo Sia giusti Tranquillamente Per questi Cambiamenti Minimi Nel senso Se uccidi Abramo Lincoln È un conto Se Che ne so Pesti Un fiore Nel 1300 Non succede nulla La vedo così Poi magari In realtà Che ne sai Starnutisci Su un uomo Di Neander Tale I batteri Che abbiamo Noi addosso In questo In questa epoca Storica Sono totalmente Diversi Da quelli Appunto Del Paleolitico E distruggi Tutto quanto Fai venire Su una febbre Terribile Che Decima Già Quel poco Di popolazione Umana Che c'è Poi magari Come ho detto Potrebbe non essere Così drastico Eh Ciao Ti piacerebbe Però Vieni qua Ecco preso Poi è tutto Congettura Nel senso Si ipotizza L'ipotizzabile Ma Di risposte Non ne abbiamo Io poi Non lo so Eh Sono il primo Che Viaggiare Dal tempo Mi ci spaccherei Ma Sono anche Il primo Che Che pensa Che sia Un grave Errore Cambiare Certi Eventi Del passato La vedo Così Eh Poi Ognuno Può dire La propria Allora Io non Mi ricordo Se adesso Usciamo Da questa Zona E rientriamo I nemici Respawnano Non mi sembra Di vedere Di vedere I nemici Però Almeno Lui Forse Non l'abbiamo Preso Prima Ok Fammi vedere Se c'è ancora Il tizio Che nuota Nella sabbia Ok No Non riappaiono Quindi Se adesso Facciamo Tutto Liberare La zona E poi Andiamo Ad attivare Tutte le statue Minchia Che colpo Almeno Non dobbiamo Combattere In modi Separati Poi Nel senso Come dicevo E' tutto Ipotesi Non c'è Nessuna Certezza Per questi Eventi Perché Uno Non sono Ancora Mai successi Cioè Non esiste La macchina Del tempo Ancora E sinceramente Spero che Non esista Perché Cambiare Certi Eventi Secondo me Boh Può essere Bene Può essere Male E' sempre L'utilizzo Che ne fai Delle cose Non puoi mai Sapere Come andranno Finchè non Succedono Eh Però Boh Io penso Che interferire Col passato Sia un Casino La vedo Così Poi Magari In realtà Non succede Nulla Poi Magari La teoria Mia Che cambia Direttamente Il futuro Non è vera E si cambia Creando un'altra Lina temporale Ce la facciamo Davo in te La difesa Mario Un bel 4 Dai Ci sto Non è un 5 Ma sono contento Lo stesso Gigi Tu sei carente Di attacco E velocità Però Eh Velocità Tutti uno Ok Un 4 Mi va bene Un 4 Ci sto Più che altro Per quando saltiamo Anche in testa i nemici Che così Aspetta un secondo Che così Almeno Li Li decimiamo Fin da subito Uno E due Con un colpo solo Bravi E la madonna Ma BB Jinjo Che cacchio di fortuna C'ha quei baffi lui Comunque C'è un modo Semplice Per abbattere Sti Sti totem Di spine E sarebbe Non ho fatto in tempo A saltare Usare il guscio Usando il guscio Gli tiriamo via Una di quelle palle Alla volta E piano piano Lo becchia la testa Ecco qua Ecco fatto Questo è l'attacco Questo è l'attacco più semplice Da evitare Uno E due Beccati questo Siccome Luigi Ogni tanto è più alto Cioè ogni tanto è più alto Non ha senso Quello che ho detto Siccome Luigi È più alto Di Mario Se voi ogni tanto guardate Quando becca i nemici Più in alto Capita che a volte La sua testa o i piedi Si vedano Mentre fa la rotolata Di un attacco in salto Nello schermo superiore È un dettaglio carino Non Non serve a nulla Ma sono quei dettagli Che comunque Ti fanno apprezzare la cosa Non capisco Proprio io Sti Sti Cosi che ci hanno Una sola moneta Nel senso Piuttosto Veramente Mettimene una Che ha cinque monete Subito Così perdiamo Meno tempo in due Preso Speravo morisse Allora Tocca a te Uno E due Uno E due Ok E uno È andato Tu vai verso Luigi Tempismo Sbagliato Ma che palle Non ho fatto in tempo Con nessuno dei due A lasciarlo in tempo Che nervoso Vabbè Benissimo E anche i bimbi Sono saliti di livello Che cosa aumentiamo I baffi Tre Ok Non è niente di che Ma è perché Mario Bimbo ha I baffi molto bassi Luigi Già gliel'avevano fatti I baffi Vero? Infatti è tutto uno Ok Un quattro in difesa Mi piace Un quattro in difesa Ci sto Dov'è l'altro? Preso Ok 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 Beccati Forse avrei dovuto curare Luigi Non Non ci ho pensato Uno E due Ok Devastato E che non lo sapevo Uno Ecco qua Manchi solo tu Ci ho sperato che Baby Luigi facesse un colpo fortunato Ci ho sperato Perché ha continuato a tirare su colpi fortuna Ho detto Magari Vediamo Dai Piano piano qualche soldo li stiamo mettendo a parte Non che ne stiamo usando di soldi Visto che comunque Ok aspetta Iniziamo a prendere tutte le X Che vediamo Non che ne stiamo usando Perché Alla fine La maggior parte dei soldi che abbiamo speso finora Sono solo per gli equipaggiamenti Però A sto punto Tanto meglio averli già subito i soldi Allora vediamo Prima di fare tutte le azioni Ci sono altri nemici che dobbiamo prendere Sì ci sei tu E una X Che non ho fatto in tempo ad avvicinarmi troppo Vabbè però Sei solo uno Forse riesco ad ucciderti Con un colpo Cioè con un giro di colpi Ecco fatto Bravi tutti e due Allora Qui che cosa abbiamo Un Dieci monete Un'altra X Torniamo un secondo indietro Prima di avanzare qui E andiamo a prendere anche i fagioli Che abbiamo lasciato in questa zona Vai Prendete tutti i fagioli Che ci servono Anche quelli Non mi ricordo Se questi tubi rossi Servono a qualcosa Sono come gli altri Esatto Fini a loro stessi Grazie E un fungo spore Vabbè Per il momento Funghi spore Non ne abbiamo usati Ma Perché giustamente Abbiamo un'abbondanza Di funghi Continuiamo ad usare quelli Per curarci Tanto come ho detto I funghi Curano 20 E appunto Non è che Che serviranno più di tanto A continuare ad avanzare Nel gioco Però vorrei vedere Un secondo Se io vado di qua Dov'è che finisco? Da nessuna parte Perché È una via di ritorno Non una via Per avanzare Ok 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 Allora Facciamo le cose Come il gioco Vorrebbe che io le facessi Ovvero per ordine Prima di tutto Saliamo di sopra Perché Credo che Da sopra Io non possa proseguire Nel senso Da lì dove ci sono I I cactus Io non posso Avanzare Però Jeans segreti Allora Diminuiscono Di 5 La difesa Ma aumentano I baffi E la velocità Allora Per 5 Di difesa Io Ai bambini Gli li butterei Ti direi E Li darei a Mario Perché ha molti meno Baffi Rispetto a Luigi Però Luigi Ha meno velocità Quindi Facciamo che li diamo A baby Luigi Che così rimangono Tutti e due Sui 95 96 Di difesa Per il momento E 100 monete Grazie Proseguiamo Da questa parte Allora Come dicevo Mi sa che da questo lato Non si prosegue Ma si torna solo indietro Vero? Dove andate figlioli? Se volete passare Dovete fare Ah no Invece no È giusto Dovete fare il mio gioco a tempo Dovete colpire il blocco Che aprirà Al di là dell'arbusto Prima che scada il tempo Se ci riuscite Vi nominerò Ufficialmente Guardiare del deserto Vi farò passare Bimbi Ciao Allora Facciamo già Un giro di ispezione veloce Ok Ci sono dei blocchi E Delle X Da prendere Ok Bimbi Prendete Questo fagiolo Voi due Un cateniaccio E un fungo max Ok Che sicuramente Schifo Non ci fa E in teoria L'arrivo è questo Perfetto Allora 3 2 1 Vai Ti immagini Se potevi cittare Quei bambini E metterli già lì Però ovviamente Loro sono Sono piccini Non ce la fanno Allora Tagliamo Ovviamente Dove riusciamo Ecco fatto Con 3 secondi Di avanzo Complimenti Siete stati Fantastici Non c'è dubbio Siete dei guardiani Del deserto Potete passare Arrivederci Abbiamo appena Preso un titolo Nobiliare Senza aver fatto Effettivamente Nulla Ok Dicevamo Comunque mi sono Sbagliato C'è da dire Anche questo Calma Bomba Ohi Basta un po' Io mi ricordavo Che da quel giro Di Come si chiama Di cactus Non si potesse Passare Invece Mi sono sbagliato Può capitare Merda Queste Ovviamente Se non le colpissimo Col fuoco Puff Esplosione E ovviamente Danno a noi Dovresti Giustamente Bloccare Il La loro miccia Col fiore di ghiaccio Ok Con un giro solo Di Mario E di Luigi Riusciamo ad ucciderle Quindi No problem Uno E due Gigi Uccidi Complimenti Perfetto Allora 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 Una moneta Di qua si prosegue Dai buona Che palle Allora Uccidiamo Prima lui Perché tanto Le bombe Sono Faciline Da uccidere Gli basta Solo un giro Di colpi Sia a Mario Che a Luigi Ecco fatto Ma dai Mi ha fregato Eppur lo sapevo Eppur lo sapevo Che mi avrebbe fregato Uno E due Quando è che troviamo Il guscio rosso Ecco Questo succedeva Anche se Usavano il fiore di fuoco Meglio evitarle Le esplosioni Effettivamente Meglio evitarle Ok Una tessera M attack Allora M attack E' quando Usi gli strumenti Fratelli Dovrebbe aumentare L'attacco Giusto? Un bravo Un temporaneamente Ok Sì Vieni qua tu Non abbiamo fatto In tempo Mai Ok Ecco Fatto Togliamoci Lo shrub Che nuota Ah Troppo presto Ecco fatto Bravo Gigi Uno E due Madonna mia Ma In sto deserto Stiamo andando Di colpi fortuna Vuol dire che i baffi Dicevo Vuol dire che i baffi Stanno aumentando per bene E anche Mario E' salito di livello Se potessi Aumenterei proprio i baffi Perché Allora Non so voi Ma a me sembra Che in questo capitolo I baffi aumentano Di niente Eccolo Bello il 5 Vediamo Gigi Che cosa aumentiamo A te Un bel po' di attacco Non ti farebbe Schifo Vero? Ok Un 4 Mi piace Un 4 Ci sto E' vero che avevo detto Che Non voglio puntare Alla perfect run Di questo gioco Ma sulle Sulle statistiche Non Non ci posso fare niente Le voglio sempre Al meglio possibile Ecco Fatto Addio La bomba 122 Di esperienza Ok Pensavo niente Visto che due bombe Sono esplose Non le avevamo Neanche mai toccate Verno In realtà Abbiamo fatto il danno Inizio battaglia Quindi conta come danno Ok Allora Questo tubo L'abbiamo già fatto Poco fa Vediamo C'è altri nemici? Sì c'è una bomba C'è Va bene 1 E 2 40 di attacco Per Mario Per Gigi 31 C'è un po' di divario Però Lo colmiamo Piano 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 Ce la facciamo Se aumentiamo Se aumentiamo In modo stabile Sia Mario Che Luigi Sull'attacco E sulla difesa Riusciremo ad averli Entrambi A fine gioco Con degli attacchi E delle difese Decente Non che Punti a essere tank Ne tantomeno A essere un glass cannon Per carità Però Sai com'è Sempre meglio Averle Le statistiche In modo equilibrato Piuttosto che sparse Sai com'è Da bambino magari dici Punto tutto l'attacco Perché così uccido tutti Subito Sì ok però Se ti beccano Con un colpo Sei crepato Quindi Beh Forse Tutta la pena Non vale Addio la bomba Addio la bomba Aia Non l'ho fatto in tempo Vabbè 122 E aumentano anche i bimbi Allora bimbi Che cosa aumentiamo Mi sa che per baby mario Un giro di attacco Mi tocca C'ha tutti i 6 E alti numeri Mentre tutte le altre statistiche C'hanno numeri bassi Ok Un 4 Non Non lo discrimino Vediamo Gigi Mi sa anche lui Un giro di velocità Vero Eh infatti Se è beccato il 6 Non l'ho ne Se avete visto questo giro Proprio l'ho buttato lì Perché ne avevo visti tantissimi Ne avevo visti tantissimi E sapevo che avrei Preso un numero alto Se mi fosse uscito un 1 Con tutti quei 6 Non l'avrei accettato Ma proprio no No Allora Solida prassi Liberiamoci prima di lui Complimenti Non sembrerà ma I bimbi Anche loro Fino adesso Hanno un decente attacco Se riescono già Ad uccidere Un nemico Che abbiamo già indebolito Prima della battaglia Vuol dire che Come statistiche Stiamo lavorando bene Allora Tu C'è un'altra bomba Vieni qui Come ho sempre detto Io i nemici In tutta la saga di Mario Li colpisco sempre Perché Sono soldi Sono punti esperienza Sono oggetti E poi mi da fastidio Che rimangono in vita Parampampampampampampampam Poi adesso stiamo anche Liberando la zona Quindi di conseguenza Tutto ci tocca Ok Un super fungo Che schifo Non è Dieci monete Qua ci sarà un nemico sicuramente Oh strano Ci avrei scommesso Ti giuro Avrei scommesso che lì c'era un nemico Ti giuro Ok un fiore di ghiaccio che guarda caso Serve proprio per le bombe Ma che per ovvia ragione Non sprecherò per nulla Non lo sprecherò per tirare giù Due bombette e uno shrub verde Addio la bomba Sta iniziando a diventare semplice Adesso Ora che abbiamo aumentato per bene le statistiche Si iniziano a vedere i risultati Vieni qua Vabbè tanto tocca a Mario Perché è il più veloce quindi Uno e due Ok non mi aspettavo il colpo fortunato Volevo vedere Se a full vita riuscivamo ad ucciderli Morto? No Strano Ok quindi con 22 Più un colpo di Mario e Luigi Cioè con Mario e Baby Mario Riusciamo a tirarli giù Va bene Va bene va bene va bene Ok un altro categnaccio Che tra l'altro Ho solo un vago ricordo Di come funziona il categnaccio Dovrei Usarlo almeno una volta Per vedere se è esattamente come me lo ricordo Ma Se La memoria non mi inganna è Noi Mario e Luigi Scappiamo dal categnaccio Dobbiamo saltare Ogni volta che vediamo un nemico Insomma Cioè il categnaccio ci insegue E noi dobbiamo evitare il nemico Per far si che sia il categnaccio a colpirlo Vediamo Ok qua non c'è più nessuno Sono rimasti solo i bottoni E tra poco Rimarranno solo i bimbi Allora prima di tutto però Vieni qua Ho i pidocchi Ecco fatto Distruggiamo Lo shrub Via una bomba qualsiasi Ok è andata bene 92 Ok A questo mondo qua del deserto Stiamo facendo già un bel po' di punti esperienza Non che la cosa mi dispiace Anzi Tutto di guadagnato Allora fiori di ghiaccio Un categnaccio Non ci sono blocchi nascosti C'è Un Grande 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 Baratro di rovi E sono abbastanza sicuro Di quello che dico Non è Per voi due E invece si Mi sono ricordato Tutto male Mi sono ricordato Tutto malissimo Mi ricordavo Che c'era un altro Ecco Questo metodo Per passare No Sbagliato Allora È probabile Che servano anche i bambini Per far azionare questo Beh Troppo veloce Volevo evitare la battaglia Per non livellare troppo gli adulti Anche se effettivamente Loro sono sotto rispetto ai bambini Di un livello Perché per 36 punti Non è che succede nulla Per carità Però Vabbè Abbiamo anticipato Quello che dovevamo fare Insomma Allora Bambini Ci dobbiamo sincronizzare Tutti quanti Dove sei Eccoti qua No Fermo Bimbi Tocca a voi Dovete andare In quello opposto Eccoci qua Uno Due Biru 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 Vai Un No Uno E due Colpo Koopa Allora E il primo giro Di razzi Super Fotonici È andato Ora Voi posizionatevi qua Che tocca ai bimbi Allora Uno Due Più 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 Tocca voi due Uno E due Più 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 Mi accendo E il cristallo Caput Andato Allora Non ci serve Perché Non ci serve Ma Devo un attimo Tornare di là Con Mario e Luigi Anzi Prima di tutto Cosa stupida Che non ho fatto prima Prendiamo Aspetta Sono andato troppo lontano Prendiamo Tutti i blocchi Che sono Qua in alto Ok Dieci monete Poi Vediamo Qual è l'altro blocco Un fungo max Sicuramente Si tiene Allora Sono abbastanza sicuro Che invece Questi due blocchi Servano ai bambini Ma con un'abilità Che prenderemo Più avanti Ah guarda C'è anche una X Che non avevamo preso Ecco Fatto Ottimo Allora Non ci serve A riprendere i bambini In spalla Ma già che ci siamo Ecco qua Altro brocco Per Mario Con un'ultra spora E basta Giusto Benissimo Possiamo tornare Tutti Felicemente Di qua Non facciamo Fare il giro lungo I bambini Ma li richiamiamo Dov'è il tubo Dicevo Li richiamiamo Con questi Ecco fatto Bravi bimbi Andiamo ad uccidere L'ultimo cattivo Di questi Gli ultimi due cattivi Di questa zona Benissimo Sei anche da solo Cattiva scelta Amico mio Cattiva scelta Benissimo Perfetto Mario Luigi Salgo di livello Di nuovo La velocità Non c'è nient'altro Che possa aumentare Che abbia dei numeri alti Cinque Ok Mentre Luigi Che cosa ti aumento La velocità Vorrei aumentartela Gigi I baffi Perché ci sono Un sacco di sei Va bene C'erano dei sei Ma anche un cinque Lo accetto Lo accetto Allora Ne è rimasto Solo uno Dai Salta fuori Te l'ho detto Te l'ho detto Facevi male Venire a combattere Da solo E hai portato Un amico Non ti è servito A nulla Benissimo Ora però Non mi ricordo Se azionando Quel bottone Qui Sulla sinistra Troviamo poi Un libro Per salvare All'interno Io farei così Azioniamolo Abbassiamo Il nostro shortcut Ecco fatto E ci salutiamo qui Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Come al solito Avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Abbassciamo Qui Grazie per la visione!